Bene, e adesso tutto in corto. Dentro le rodici, eh? E io l'ho detto subito stamattina, quando spimo di partire, che se arrivavamo di qua era dura. Infatti... Oh, wow. Wow! E' un'altra parte, e' un'altra parte. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi sposta un po' di qua. Mi sposta un po' di qua. Mi sposta un po' di qua. Di lì. Mi sposta un po' di qua. Vai, uno, due, tre. Vai. Vai, uno, due, tre. Vai, uno, due, tre. Vai, uno, due. Vai. Vai. Vai, uno, due, tre. Vai. Vai, uno, due. andiamo a casa